In uscita su PC, PS3 e Xbox 360, Konami ci portano i meandri più bui della mente malata dell'enigmista. Se vi interessa vivere, non dovete far altro che seguire la nostra video anteprima. Soh propone un ambiente degradato, opprimente e in forte decadenza, teatro degli spettacoli sanguinolenti di Jigsaw. La struttura appare già da adesso molto articolata e complessa nella sua architettura, tanto da costringerci a percorsi alternativi vari e talvolta improvvisati, il che non potrebbe escludere un certo ricorso al backtracking. Il gioco esordisce fin da subito seguendo in pieno lo stile dei film. Le prime parti giocate riguardano il tentativo disperato del detective David Tapp di liberarsi da una trappola mortale, un inatteso regalo frutto del sadismo di Jigsaw. Il tutto tramite un frenetico quick time event. Una volta liberi, inizia il nostro vagare per le stanze del vecchio manicomio, accompagnati dalla sola flebile luce di un accendino, che sporadicamente si spegne quando se ne abusa per l'uso continuo. Avanzare lungo l'ambientazione del manicomio si rivela particolarmente impegnativo. Ogni stanza, ogni porta nascondono un enigma, quasi a voler far perdere la lucidità mentale al povero detective che non ha mai un momento per potersi permettere di abbassare la guardia. L'attenzione rimarrà costante su alti livelli anche grazie al fatto che non bisogna preoccuparci delle sole insidie rappresentate dalle trappole del manicomio, ma anche dai suoi stessi inquilini. Nell'intera struttura sono infatti ospitati numerosi soggetti pericolosi che agiscono sempre per ordine dello spietato torturatore e bisogna affrontarli ricorrendo ad armi contundenti improvvisate recuperate dall'ambiente. Appare già da adesso convincente nella sua sporca e malata atmosfera la rappresentazione artistica dell'ambiente di gioco che lascia trapelare una sensazione di disagio e abbandono particolarmente azzeccate. Anche graficamente il lavoro fin qui svolto fa ben sperare visto che prevalgono gli ambienti bui che vengono svelati pian piano dalla debole luce che utilizza il protagonista luce che ha un ruolo fondamentale per la soluzione di alcuni enigmi come lo sfruttamento di specchi e scritte sul muro per scovare preziosi messaggi spesso comprensibili solo se osservati da uno specifico punto di vista. Queste prime impressioni avute sono piuttosto positive l'atmosfera della serie si trova perfettamente riproposta nel titolo ad oggi il gioco sembra essere un progetto dal grande potenziale che pare rendere giustizia al nome di Saw. Grazie per la visione